L'Ateneo di Pavia Il senato accademico il saluto del governo Il professore Carlo Emilio Ferri Preside della facoltà di scienze politiche Rivolge parole di augurio al neolaureato Mentre il magnifico rettore gli consegna il diploma La motivazione della laurea dice fra l'altro Intendiamo onorare in Giovanni Grunchi Il supremo magistrato dello Stato E l'uomo di pensiero e di azione Aperto a tutte le esigenze ideali della nostra età